Musica I spagnieri della compagnia di Rivoli hanno eseguito questa mattina 17 ordinanze di custodia per operare in carcere a conclusione dell'operazione piazza pubblica. 17 arresti che si vanno a sommare dai 30 anni, che portano in totale a 34, a cui si sommano ancora 13 persone indagate a piede libera. Si tratta di persone tutte italiane, residenti a Pianenza, Rivoli, Rivoli, Varola, Pugliano, 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 Pugliano e Pugliano, che avevano trasformato le proprie abitazioni in vere e proprie centrali dello spazio, in cui dare appuntamento ai clienti per l'accessione di coppia di una Asciccia Mariana. Durante le indagini i carabinieri hanno sequestrato circa 13 anni di un'operazione.